Siamo i traditori? Alfano dice che siete degli estremisti. Siamo? Degli estremisti. Scusa Pierpaolo. Niente. Alfano non parla più. Non vedete più le facce di qua. Niente però di niente. No, ma non è mai bello, io non sono contento. Vediamo quello che mi... Ragazzi, io non vedo le scale, e pure per voi è pericoloso. Cattano prima loro. I traditori, l'uomo tradito? Si può avere una battuta e poi andiamo. Bravo. No, no, tranquilla. Attenzione, fa un microfono. Ma guardate, voi date tutto per scontato. Io credo che il presidente Berlusconi, che è un genio, potrebbe anche fare una scelta... No, no, quello... Fare una scelta dopo la decadenza che potrebbe anche sorprendere quel piagnone di Alfano. Vediamo, vediamo. T'ho pianto. Il piagnone, il pianto di nuovo. T'ho pianto. Ma chi è che ha pianto? Alessà, chi è che ha pianto? Ma che stiamo a fare? Sceneggiando la moletana. Ma vi è qua, dai. Alessà, ma chi è che ha pianto? Alfano. Alfano ha pianto. Alessà, non medi. Alessà, non medi.